Oggi ragazzi sono Piazza, bentornati nel mio canale, oggi ragazzi sono qui con un video speciale perché sono in compagnia di Keiko Bomba Keiko Bomba, incredibile Oggi siamo qui, perché Piazza, ma perché stai guardando verso il basso? Perché stiamo giocando con questo gioiellino Che è il nuovo Asus ROG Phone, ok, quindi ora vedremo come gira Fortnite, ovviamente il nostro gioco più bello, più forte del mondo, Tfew Fates Giustamente, dobbiamo giocare noi, più forti del pianeta Sul telefono, quindi facciamo una coppia, Keiko, e vediamo che cazzo esce Ho un po' di timore, io non so neanche come funziona, vediamo, riportate che ci giri bene No è sexy Comunque ta marria bomba devo dire, allora obiettivo 10 kg a testa Andiamo in un posto, tipo, non lo so Ah, tipo spiagge, proprio lì così dici O è troppo, è troppo Come ci si droppa, ok Ragazzi non sappiamo giocare, già non so giocare su PC È una cazzata, vai buttati È vuoto, è vuoto, che abbiamo vinto, abbiamo vinto, è vinta È vinta, è vinta Però quanto si vede di Cristo Ora so che sembra, so che sembra, ti sembro di parte Però non avrei motivo di dire cagate Se vi dico, fa cagare, fa cagare Se vi dico che è figo, è figo No, no, ma vibra per ogni cosa Aspetta un attimo, zio No, no, no Eh, ma se mi registra tutte le vibrazioni Capisci che è un casino Zio, zio, spera, spera Qui è un casino, un attimo Dove sei? Dove cazzo? Ok, ti ho visto No, devo levare sta vibrazione adesso Allora Impostazioni Sensibilità, tocco Moltiplicatore Riprimire assistita Sì Vibrazione? No, è l'ultima Applica Su impostazioni è l'ultima Dai, forte Stia pronto a sole Oh Eh, che ne so Ma tu hai mai giocato sul telefono Ma me lo spieghi Oh Ma tu che sei Oh, in realtà lui è forte Fa la parte di quello che non è capace Beh, io non so So scarso Sia su questo che Ti vengo a prendere No, io non ho luttato niente Aspetta un attimo Cioè, l'importante è fare Se faccio una kill Per me già è vittoria reale Comunque Ma sai Nanna kill Impazzisco Raga, ve lo dico Perché per me è scomodo Cioè, io non ci posso fare niente No, si vede meglio No, è di Cristo Infatti Poi io ho settato Tu non l'hai settato Perché non ti ho detto come si fa I 90 hertz Quindi per me è un po' più liscio Tu sei a 60 Sicuramente A meno che non l'hai settato E a 2 Sarai Penso bene a 60 Credo poi Ma tu hai Le armi Oh Io ho 300 di materiali Ma penso che non li userò mai Sul telefono Tutti sti materiali Su PC Ci fai mezzo Un po' Ar in braccio E' buono No, no, no Non riesco neanche a saltare Quanto sono Madonna Eh, vabbè Mi tocca pure buildare Aspetta Ti faccio vedere Il pro Aspetta Aspetta Che arrivo Quanto so forte Eh, ho dovuto buildare Addirittura Pensa te Come so forte Ma ci sarà Un po' di automira Quando sparo No, perché Eh, devi esserci Perché io Sono già Pensavo avessi fatto la kill Stavo per andare via Ma io una Una me la sento Buona Qua, qua, qua Ci sono 30.000 casse Qua Le solite casse Di pinnacoli Una me la andrei Ad aprire Sì Su Su Che colpe so io Eh, ti seguo Ma no Che c'è C'è questo casino C'è questo casino Ma la gente Dov'è? Siamo Preso Sì Sì Comunque c'è un'automira Che è scioccante C'è un'automira Che è scioccante Comunque Aspè, ho lasciato il pump Perché non so Incappare Vai, te ne lascio C'è un'automira Che è una roba Da galea Eh, l'ho lasciato lì Mi devo curare Che non ho vita Qua, il pop a blu Qua ce n'è uno Eh, ma ti vuol dire Come si dannano i colpi Eh, adesso Come si dannano i colpi Ma secondo te So come si dannano i colpi Sei serio? Aspetta, l'ho capito Dividi Vai, tieni Sì, non è proprio così Scontato Menti che fai il professore Fa il professore Andiamo, andiamo Ci crede poi Mi è piaciuto Sto auto-aim Dovrebbero metterla Pure su piccina Così, ciao Stiamo prendendo la mano È finita, raga È finita Arrivano i tornei Arrivano i tornei Arriva tutto È finita Facciamo Str per pg Collaborazione È finita È finita Se vinco Giuro Giuro che Mi spoglio Faccio un casino Se vinco Sul telefono Una delle mie prime partite Vado via No, no, sì Sul telefono sarebbe la prima Ma ne avrò giocate Tre in vita mia Esagerare Cazzo, la prima Quando la prima Su pc L'ho vinta Dopo qualche giorno Già Farò qualche giorno Qui mi serviranno Sei mesi Per fare Una partita buona Vuoto C'è nessuno Dove Sono tutti Ma che è in 13 Oh Ho sbagliato Ho sbagliato Non sono capace Guarda SMG Ho sparato Occhio che c'era Un time pure Dal cosa Oh, oh Ma da dietro Da dove E non vedo niente Schermo 2000 pollici E non vedo niente Il problema è mio qua Non è del telefono A destra A destra E ne ho Vabbè Ma che ninja Ma che ninja Oh, oh, oh Attenzione Che co The save The save Mi stavi salvando Restami Provaci O sennò Prova a fightare Se te la senti Così è perfetto Se te la senti di fightare Sì Vai vai Sto Sto Ricontinuando Sto Ricontinuando A bendare Prova a bendarmi Ma che sono mie Se sono forti Ma ti pare I try No Checco Checco Prova a fare qualcosa Come ti pare A te Arrivo Shift Sì ma questi sono Dei pro player Zio No ma quando mai Ma non è possibile Non si può giocare Sì ma qui Qua ci sono i pro player Qua c'è gente Che fa lo skirmish Tra un attimo Il problema È che la gente Facciamo cagare Cioè io faccio schifo Sia su pc Che sul telefono Io devo andare A cambiare sport Devo fare Qualcos'altro Che cosa Che non è possibile Che faccio schifo Su tutto Non è normale Questa qua Questa qua è la nostra Che 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 What What Non lo so Ah ok È entrato Non so chi Tirano fuori Sei tu Vai ho quittato Anch'io Vai chiudiamo il video Con due parole Così al volo È buona Vai vado Ragazzi questa qui È la nostra Prima partita È anche ultima Mi sa Perché abbiamo fatto Almeno io ho fatto cagare Lui ancora ancora Qualcosina è riuscito a farla Sul telefono Dicevo Quindi ci vediamo Un prossimo video Magari dove miglioriamo Un po' Facciamo tipo Un escalation Di pippe incredibili Più o meno decenti Fino a pro player incredibili Quindi probabilmente Vedrete in futuro Qualcos'altro Con calma Fino a diventare Dei pro player E giocheremo lo skirmish Io e checo e bomba Insieme È una promessa E le promesse Oh È una promessa Ragazzi Io vi saluto Bella raga